Ciao amici e ben ritrovati al consueto appuntamento con Sunshine Money, il canale dedicato al mondo dei guadagni online gratuiti. Quindi se siete interessati a questa modalità, ripeto, gratuita di guadagno, siete nel posto giusto. E quindi io vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere nel canale. In apertura, come sempre, apro una piccola parentesi sul mio secondo canale, Sunshine Records Home Recording, dedicato al mondo della produzione musicale. Quindi agli amanti, agli appassionati, a quanti vogliono o stanno imparando a produrre musica e magari sono alle prime armi o perché no, sono già avviati e vogliono affinare le proprie tecniche o impararne di nuove, qui trovate un sacco di video e un sacco di tutorial sul mondo della produzione musicale. Se vi fa piacere, se è di vostro gradimento e di interesse, potete iscrivervi e attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che andrò a caricare anche in questo mio secondo canale. Quindi ragazzi, Sunshine Records Home Recording per la produzione musicale e Sunshine Money per i guadagni online gratuiti. Io non vado a trattare siti o situazioni ad investimento in questo mio canale. Oggi volevo farvi vedere un sito che ci dà la possibilità di guadagnare soldi rispondendo a dei sondaggi. Vi parlo di Market Agent. Market Agent è un sito serio e pagante che ci paga per rispondere a sondaggi. Io ancora non ho prelevato su questo sito perché ancora non raggiungo la soglia minima di prelievo, però ho visto parecchi video in giro, parecchie prove di prelievo e di pagamento. Quindi il sito è serio ed è pagante. Come si fa a guadagnare da questo sito? Allora, una volta cliccato il link in descrizione dovremo iscriverci. Mi raccomando, dovremo iscriverci con i nostri dati reali. I nostri dati reali serviranno al sito per conoscerci e per mandarci i sondaggi, altrimenti i sondaggi non ci arriveranno. Una volta iscritti, il sito ci manderà una mail di conferma, una mail di verifica, che è questa, che va assolutamente confermata. Eccola qui. Una volta confermata la mail, saremo abilitati ad entrare nella nostra dashboard, nel nostro profilo. Una volta entrati nel profilo, la cosa che consiglio a tutti è quella di andare nel menu tipizzazione, tra l'altro il sito, come potete vedere, è disponibile in italiano, andare, ripeto, nel menu tipizzazione. Qui, all'inizio, non avrete tutte queste informazioni che adesso vedete. Avrete, man mano che andrete avanti, avrete delle informazioni che dovrete andare a completare, appunto, affinché il sito vi conosca ulteriormente e vi mandi di volta in volta i sondaggi. I sondaggi non arrivano quotidianamente, arrivano di tanto in tanto. Più interagite col sito, più sondaggi andate a risolvere, a rispondere, più il sito, come dire, vi ricompenserà e vi manderà sondaggi. Quindi, ripeto, all'inizio, ragazzi, consiglio di andare nel menu tipizzazione e andare a risolvere di volta in volta, quando vi verranno fuori, tutte le informazioni, così che il sito vi conosca e di volta in volta vi mandi i sondaggi. Altrimenti, ripeto, se non darete queste informazioni e se non interagirete in modo costante col sito, non vi arriveranno i sondaggi e quindi non riuscirete a guadagnare o comunque riuscirete a guadagnare molto, molto lentamente e molto poco. Questo è il consiglio che do a tutti. Ripeto, i sondaggi vi arriveranno man mano, col tempo, più andrete avanti, più interagirete col sito, più vi arriveranno i sondaggi. Quindi, dopo di questo, come potete vedere, io in questo momento ho questi due sondaggi da portare avanti, da risolvere, in più ho un altro, come dire, un altro sondaggio nel menu tipizzazione, da portare avanti. Ripeto, i sondaggi vi arriveranno man mano, vi arriveranno col tempo. Una volta risorti i sondaggi, accumulerete dei punti che vi andranno qui nel balance, come potete vedere io adesso ne ho 327, tra l'altro, per il semplice motivo di iscrivervi tramite il link che vi lascerò in descrizione, all'inizio avrete un bonus, se non erro, se non ricordo male, di 200 punti. Dicevo, i punti vi andranno ad accumularsi nel balance, una volta arrivati a soglia minima di prelievo di 500 punti, potrete andare a ritirare, andando nella sezione borsa di scambio, come potete vedere qui avete varie formule per il prelievo, si va dal bonifico, eccolo qui, il classico bonifico, poi abbiamo il portafoglio Skrill e il nostro caro Paypal, quindi potete andare anche a ritirare soldi su Paypal. Come potete vedere, a seconda della forma di pagamento del prelievo scelto, il sito tiene una tassa. Skrill è l'unica forma di pagamento sul quale il sito non detiene alcuna tassa. Se andiamo nel pagamento Paypal, che credo che è quello che interessi a tutti, andiamo a cliccarci su, come potete vedere, la transazione minima è di 500 punti, quindi la soglia minima di prelievo è 500 punti, che equivalgono a 5 euro. Per i pagamenti al di sotto dei 1500 punti, dobbiamo sottrarre 100 punti bonus, quindi il sito per pagamenti inferiori a 1500 punti, quindi è 15 euro, ci sottrarrà 100 punti, quindi ci sottrarrà 1 euro. Per motivi di sicurezza, il pagamento richiede, al momento, fino a 3 giorni lavorativi. Molto, molto semplice. Quindi, per ritirare, dovremo inserire la nostra mail, i nostri punti, e in automatico il sito ci farà la corrispondenza in euro. Ripeto, il sito è assolutamente serio e pagante, io ancora non arrivo alla soglia minima dei 500 punti, quindi ancora non prelevo. Appena riuscirò a prelevare, ovviamente, vi farò il video di prelievo e quindi di riprova di pagamento. Ripeto, ragazzi, Market Agent, un sito che ci paga per rispondere a dei sondaggi, sondaggi che ci arriveranno di volta in volta. Più interagiremo col sito, più lavoreremo col sito, più ci arriveranno i sondaggi. Mi raccomando, se volete iscrivervi, se avete intenzione di iscrivervi al sito, di inserire i vostri dati reali che serviranno al sito per conoscerci e quindi per mandarci di volta in volta i sondaggi giusti. All'inizio, consiglio, ripeto, di andare nel menu tipizzazione. Qui non troverete inizialmente tutte queste informazioni, ne troverete, vi verranno fuori man mano. andatela a completare con i vostri dati reali e queste informazioni serviranno appunto al sito per mandarci i sondaggi giusti, che altrimenti non vi arriveranno. Questo è quanto, ripeto ragazzi, questo è Market Agent, sito di sondaggi assolutamente serio e pagante. ho visto vari video di pagamento su questo sito. Questo è quanto ragazzi, quindi in chiusura vi rinvito a iscrivervi al canale se siete interessati a forme di guadagni online gratuite come questa che vi ho fatto vedere oggi e come tante altre che vi faccio vedere giornalmente. se siete interessati a queste modalità gratuite, ripeto, di guadagni online, vi consiglio di iscrivervi, vi invito ad iscrivervi quindi ad attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui video che andrò a caricare per voi ogni giorno. secondo canale, Sunshine Records of Recording per la produzione musicale. Se siete interessati, se vi fa piacere, se è di vostro gradimento, anche qua potete iscrivervi e attivare la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sulle novità che andrò a caricare anche in questo mio secondo canale. Ragazzi, in chiusura io vi saluto, vi ringrazio per la visualizzazione, vi auguro buoni guadagni a tutti e vi rimando al prossimo video. Ciao!